E' una muffa il pericolo che incombe sul grano della provincia di Foggia, terra per eccellenza della produzione di oro giallo. Quando mancano un paio di settimane o poco più all'inizio della mietitura, che comincerà nei campi del basso tavoliere, gli agricoltori guardano con apprensione le condizioni meteorologiche. Le piogge abbondanti degli ultimi mesi hanno portato alla proliferazione a macchia di leopardo delle malattie fungine del frumento duro. I vecchi agricoltori lo chiamano ancora il mal di piede, ossia una muffa che si sviluppa la base del fusto, lì dove la pianta fiorisce dal terreno. L'ultima volta lo stesso fenomeno si registrò, ma con minore gravità nel 2011 e ancora qualche anno prima. Nei prossimi giorni i tecnici dell'Associazione Agricola eseguiranno i sopralluoghi nei campi per verificare l'entità dei danni causati dalle muffe che hanno attaccato il grano. L'unica speranza per i produttori viene dal clima. Solo l'arrivo di un periodo costante di sole e vento potrà asciugare i terreni e ridurre il problema. Nel Foggiano ci sono circa 60.000 produttori di grano, che confermano la capitanata al leader in Italia nel settore ceralicolo, seguita dalla Sicilia, intesa come tutta la regione. Lo scorso anno sono stati raccolti circa 6 milioni di quintali di grano, un dato in linea con quello del 2012. Costante anche il prezzo, che ormai sembra essersi stabilizzato da più di un anno. L'ultima borsa del grano di Foggia ha quotato il frumento duro tra i 28 e i 29 euro al quintale, vicino a quella soglia di 30 euro ritenuta dall'Associazione di categoria il costo minimo per poter coprire quantomeno le spese di produzione.